io sono io sono immune io ragazzi c'ho la macchina non posso tenere d'occhio le palle che è successo? c'era una certa carna che non voleva finire per terra perché si bacchava che cazzo riesco a scavare? guardate anche un bravo di stondini deficienti che non hanno mai visto la nese la macchina la devo anche nelle mutande ma perchè è sempre a me? a Michele a Michele a Michele 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 sono troppo giusti da dentro però ti voglio andare eh ma tu i miei bari sono sempre un tolorenti io mi danno il fresco sui pantaloni allora facciamo per la mia mi facevi dai dai buttami giù eh chi è che mi ha preso da dietro? noi siamo qui a Coterno chi è che mi ha preso da dietro? chi è stato? mi ha preso da dietro così? mi piace ma lo voglio sapere prima chi è ci è chi è chi è chi è Pompisci!